I carabinieri della tenenza hanno denunciato un ventenne per ricettazione poiché trovato in possesso di un tablet rubato ad una donna agrigentina durante un concerto nello scorso agosto in un centro commerciale di San Cataldo. I carabinieri hanno trovato l'apparecchio dopo una perquisizione domiciliare. Il giovane non ha fornito giustificazioni credibili in merito al possesso del dispositivo. Il tablet è stato posto sotto sequestro e sarà restituito al legittimo proprietario.